Che dici Ciprian? Che mi ruote? Oh la la! Non l'ho capito. Oh la la! Non penso che sia la prima volta che mi ruota qua dentro. Beh, è la prima volta che lo dichiari. Sì, è la prima volta che ne parlo. Ah, ci abbiamo messo un po' due mesi a dire qualche parola. Sì, ci ho messo un pochettino. Pochettino, tanto. Un po' troppo sicuramente. Vorrei aggiungere. Perché troppo dici? Perché? Perché ci ho messo tanto ad arrivare, secondo me, a sentirmi come mi sento adesso. Cioè appunto un grado di poter esprimere effettivamente quello che sento. Che per me dall'inizio è stato un po' un blocco. Non nego che quando le emozioni sono forti si ripresenta sempre di nuovo. Quindi è difficile. Mi ruote, mi ruote perché non... Sono stanco di vederla con lui. Sono stanco di vedere che si baciano. Sono stanco di tutto quello che in qualche modo sta succedendo. E mi dà veramente, veramente fastidio. Il problema è che io, quando è così, tendo appunto a... Chiuderti. Esattamente. E' stato un po' 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 un po